buongiorno e bentornati sul mio canale vi voglio parlare oggi di una casa che reputo particolarmente interessante per la storia perché una casa che ha storia perché risale al 1875 per la particolarità dei modelli con delle idee innovative con delle idee interessante e con un livello qualitativo che in rapporto al prezzo è sicuramente valido e che comunque è una casa poco conosciuta almeno nei riscontri che io ho avuto con gli appassionati che frequento quotidianamente altri youtuber eccetera una casa che comunque è poco conosciuta vi voglio parlare oggi un pochettino più diffusamente di armand nicolet dunque dicevamo 1875 a tramelan inizia appunto la storia della società armand nicolet e nella fattispecie all'inizio evidentemente del signor armand nicolet che era un appassionato del lavoro di orologiaio e lavorava appunto con il padre nel nell'atelier dei orologeri appunto del padre nel 1902 il signor armand decise di concretizzare la sua passione e anche la sua capacità la sua conoscenza nella costruzione di un orologio da tasca nella fattispecie un orologio da tasca con la cassa enorosa decorata guilloche quadrante enamel cioè smaltato funzione cronografica monopulsante per cui già insomma una complicazione una un orologio di pregio non soltanto per quanto riguarda la questione delle lavorazioni e dei materiali ma anche per la tecnica ok appunto funzione cronografica monopulsante calendario completo ripetizione delle ore nei quarti e dei minuti signori stiamo parlando di un orologio importante tra le altre cose il signor armand nicolet era anche appassionato di design tant'è che nel museo nicolet che si trova appunto a tramelan nello jurat svizzero guarda caso tutti lì da tutti lì arrivano ok nel museo si possono anche vedere dei suoi lavori dedicati al cioè diciamo dei suoi lavori riferiti a il design anche al di fuori delle applicazioni orologiere il signor armand muore nel 1939 e le eredini della manifattura passano a questo punto nelle mani del figlio willy che appunto si occupò di farla di svilupparla e facendole diventare una delle più importanti della regione non è poco una delle più importanti della regione perché nella prima metà del secolo scorso del chiedo scusa del ventesimo secolo tramelan era uno dei centri più importanti per la costruzione dei movimenti degli orologi e anche di orologi compresi e completi chiedo scusa e intorno al 1950 era poi diventata il terzo polo terzo polo di produzione dell'industria orologera svizzera impiegando circa 800 orologiai diplomati suddivisi in più di 100 fabbriche per cui stiamo parlando di una realtà industriale produttiva molto importante in quegli anni appunto la nicolè regolava e finiva quasi l'intera produzione dei movimenti venus per cui regolava e finiva quelli famosi dotati di smestamento delle funzioni cronografiche con le ruote a colonna compreso il famoso calibro venus 185 quello del cronografo rattrappante sdoppiante stiamo parlando di elaborazioni evidentemente di elevato livello tra le altre cose nicolè in quel periodo deposito un brevetto chiamato a giusto che è un senza aprire il fondo dell'orologio vabbè ok bravo nicolè chiedo scusa alla fine degli anni 70 la crisi del quarzo che insomma ha colpito e lasciato i segni su l'intera industria orologera svizzera fece sì che nicolè fu costretto a riorganizzarsi e mettendosi a questo punto a cooperare con dei marchi famosi per cui con delle altre case potenzialmente dei concorrenti per i quali già ai tempi produceva movimenti o parti dei loro meccanismi nel 1987 willy nicolè incontra rolando braga che è rolando braga rolando braga è un imprenditore italiano con un'esperienza ventennale nel settore l'anno dopo a seguito di questa conoscenza di questo incontro viene firmato un accordo che crea che che crea che crea la nuova realtà quella attuale di armani colè per cui viene affidato a rolando braga la gestione della fabbrica che nell'accordo si decide anche perché insomma swiss made signori di lasciare in quel di tramelana anche per così per dare continuità storica alla cosa dopo alcuni anni non è stata una cosa semplicissima ci sono appunto voluti un po di anni per riorganizzare interamente la fabbrica i reparti produttivi la società le linee commerciali eccetera 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 la regola detto eccetera diciamo uno dei punti salienti diciamo la formalizzazione di questa rinascita avviene alla basal world del 2000 dove viene presentata la collezione nicolè che riscuote appunto un notevole successo attualmente armani colè tramelan costituisce orologi meccanici in quantità limitate nel rispetto della tradizione e del no del marchio evidentemente sono stati rivisitati nel design anche dall'influenza diciamo cioè questo è il nostro fiore all'ucchiello dello stile dello stile italiano fondamentalmente ci sono due collezioni la collezione manifattura con edizioni limitate e numerate che è una serie di orologi che utilizza solo movimenti vintage di manifattura nicolè qui c'è un discorso molto interessante che in una prossima intervista con appunto il signor orlando braga vorrò approfondire e qui intanto vi annuncio che se tutto va bene ci sarà prossimamente questa questa intervista sono stati diciamo ripresi disegni e in qualche modo digitalizzati ripresi a cad e rimessi in produzione dei dei movimenti dei meccanismi che appunto erano facenti parte della tradizione chiaramente innovati e attualizzati facenti parte della produzione e del know how così si dice di armani colè l'anno di fabbricazione quello originale del movimento e numero di serie sono incisi sulla platina del movimento e sono chiaramente visibili nell'apertura su quadrante questo discorso della ripresa e attualizzazione dei movimenti ricorda quello che poi in qualche modo sta facendo ora oisa riprendendo appunto i vecchi movimenti i movimenti del nonno per capirci e ri attualizzando la seconda collezione è la collezione cosiddetta contemporanea dove ci sono delle delle linee di orologi meccanici sono corsi qua dietro nel alle mie spalle sia da uomo che da donna tra le altre cose per quanto riguarda la donna armand nicolè è stato che mi risulti primo marchio a sviluppare dedicare degli orologi appunto dedicati soledissimamente alle donne con movimenti meccanici complicati con le complicazioni appunto come la serie m03 e la serie tl7 tutti i modelli della collezione sono equipaggiati con movimenti meccanici a questo punto da prima età attualmente soprattutto con gli sv200 gli sv300 di conseguenza movimenti sicuramente validi dal punto di vista tecnico tra l'altro realizzati personalizzati queste da sellitta per armand nicolè per cui anche dal punto di vista non soltanto così del controllo e delle delle verifiche prestazionali ma anche dal punto di vista chiamamolo estetico della presentazione vi metto a seguire alcuni alcuni video interessanti vi saluto dopo è inutile che vi saluti adesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti dunque che dire che dire secondo me è una scoperta molto interessante un marchio ripeto per lo meno in italia poco conosciuto che secondo me avrebbe bisogno di maggiori approfondimenti non ho avuto l'occasione di provarli con continuità un paio di modelli cioè il diver 300 metri e il il pilot ho avuto l'occasione di toccarli di vederli dal vivo di conseguenza non posso che dare un giudizio chiaramente sommario ma assolutamente positivo chiaramente andrebbero in qualche modo un pochino torturati ma la sensazione è che siamo alla presenza di orologi validi e con un ottimo rapporto qualità prezzo basta quello che dovevo dirvi ve l'ho detto vi rimando quanto prima possibile alla all'intervista all'intervista fateci caso dislessia l'età eccetera con il sio con il direttore generale di di armand nicolè appunto italianissimo bresciano da quello che ho capito nell'occasione avremo appunto modo di approfondire un po di argomenti mettete mi piace iscrivetevi al canale trovatevi un lavoro di giorno ciò che più conta anziché andare in giro così a comportarvi in qualche modo ciao a tutti grazie